Ciao Shelley Che combini? Non riuscivo a visualizzare lo schema Proporzioni sballate Servivano atomi più grandi Mi sembra giusto In tutti i modi come sei riuscito a entrare? La porta sul retro ha una serratura a 5 pistoncini e un antifurto anteguerra È stato molto semplice Entra anche tu Inizia a dividere i protoni dai neutroni Mentre io preparo gli atomi di carboni Non credo che sia il momento adatto Dobbiamo tornare a letto Ma non vedi che sono al lavoro? Se non esci subito da solo vengo a trascinarti per le orecchie Se è una sfida Allora prova a prendermi Ma tu guarda se uno... Sceldo, vieni fuori! Basinga 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 Vieni subito fuori Basinga 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 Basinga